Musica Abbiamo con noi Gianfranco Caso, ti voglio chiedere subito una cosa Cosa si prova a immortalare gli attimi più salienti di una manifestazione straordinaria come la Sardegna? Molta emozione, molta emozione da quando sono appunto il fotografo ufficiale della fondazione Anche diciamo così vado un po' in ansia da prestazione perché comunque ti giochi, aspetti un anno per fare una foto in un momento Tipo per esempio la discesa del capocorsa è veramente davanti a tanta gente soprattutto tanti colleghi Siamo spalla a spalla tutti quanti, basta una piccola vibrazione, un piccolo movimento e l'attimo fuggente vola via e quindi sbagli tutto Una curiosità, qual è stato lo scatto più difficile che tu hai fatto nella tua carriera? Parlo della sartiglia ovviamente Ma ce ne sono tanti che ti danno molto da fare soprattutto quelli della vestizione e quelli delle pariglie Forse sono quelli che danno più difficoltà proprio perché sei chiuso dentro una gabbia e il punto tuo di riferimento è molto piccolo Devi cercare di azzeccare un po' tutto Poi ultimamente alle pariglie soprattutto abbiamo veramente poca luce quindi agisci anche con molti elementi limitanti Ti voglio chiedere invece una terza domanda che ci riguarda Sei soddisfatto della copertina che Antasa ti ha regalato e ha regalato ai nostri lettori? Oltre ad essere soddisfatto vi ringrazio, sono estremamente gratificato nel firmare una rivista così prestigiosa Che non voglio fare del caponelismo ma in questo momento è l'unica rivista sarda che parla di uomini di Sardegna e della Sardegna Che cosa è per te la sartiglia? La sartiglia è soprattutto emozione ma anche perché no sardità dove veramente esprimiamo la sartiglia non è alla decima edizione Sono state fatte più di 300 edizioni, la sartiglia ormai è storia della tradizione di Sardegna